A Candiana, in provincia di Padova, una betoniera è finita fuori strada. Il conducente ha perso il controllo della guida e il mezzo ha finito la sua corsa dentro al fosso che costeggia la strada. L'incidente è avvenuto lungo la regionale 104. L'uomo al volante è rimasto ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autogru per riuscire a riportare sulla careggiata la betoniera. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.